Se non volete farlo con le mani, bravo, fate con le mani che è la cosa migliore, altrimenti qua finisci così, io bravo. Io voglio acqua! Eh no, dopo! Sistemate bene, coprite bene il colletto della piatta, falla a pezzi, quella zolla è troppo grande, anche quell'altra, sì. Aspetta, aspetta qua. Così poi, io mi sconfissi metto a me, eh. E dobbiamo andare.